Siamo a pace, qui i lavori per la pista cicabile sono fermi ormai da un mese circa, che cosa state vivendo voi commercianti e residenti della zona? Il problema più grosso è che sono stati eliminati centinaia di posteggi, specialmente nel periodo estivo che l'utenza aumenta e quindi siamo in difficoltà anche noi che abiliamo qua praticamente. Fine settimana ci sono incidenti in continuazione, noi chiediamo all'amministrazione di intervenire il più presto possibile perché hanno lasciato i lavori in soffeso perché fanno due giorni là e un giorno qua, una settimana di là e un giorno qua, quindi hanno lasciato così in soffeso da uno o due mesi questi lavori. Però devono mettere in condizioni ora che arriva l'estate tutti i commercianti di poter lavorare perché già siamo in grosso difficoltà da tanto tempo, oggi arriva l'estate e siamo tutti fermi e non credo che finirà presto questo cantiere. Temete che ormai quest'estate sia persa? Ormai credo di sì, anche se potrebbero attivarsi mettendo altri operai e fare almeno questo tratto di strada dove potrebbero liberare queste attività. Il problema è che non parcheggiano le macchine sulla strada e tutte le famiglie che trovano parcheggio più lontano non trovando un ingresso devono camminare in mezzo alla strada fin quando non trovano l'ingresso principale che è questo qui. Che a volte è ostruito da qualche auto parcheggiata in maniera un po' distratta. Potrebbe capitare, può capitare molto spesso perché ci sono gli avventori dei liti, del mare, delle discoteche. Il tratto in questione, il progetto prevedeva appunto il tratto trogadero principe, nei giorni in cui veniva fatta la modifica sostanziale del progetto i lavori si sono spostati qua. Lavori che sono andati abbastanza veloci visto il tratto che è una linea che unirà le due piste ciclabili, solo che da un mese circa non si vedono più operai, non si vede più lavorare. Il cantiere è fermo, i disagi sono notevoli. Il villaggio di pace la sera, chiaramente tutti i commercianti, il parco giochi, i tappeti elastici più indietro o tanti locali della riviera dove trovavano respiro in questo parcheggio che da un mese circa si crea un imbuto e qui la sera regna l'inciviltà dovuta a qualche automobilista disattento. È diventata anzi una zona di stoccaggio per entrambi i cantieri, sia per questo tratto che per il tratto di principe. Voi come consiglio avete richiesto un incontro all'amministrazione comunale? Sì, visto lo stallo e visto tante le richieste dei residenti e dei commercianti in zona ho inviato una nota alla municipalità la quale richiedevo un incontro, un tavolo tecnico, l'ingegnere preposto ai lavori, il RUP, l'assessore alla viabilità e il sindaco Basile. Attendiamo questo incontro per capire la fine dei lavori.